Conosco una magnifica storia, la vuoi sentire? 50 anni, immaturo, inaffidabile, che non ti ho mai fatto sentire importante, chi ti ricorda? Tu te lo ricordi che io sono tuo padre, sì? E non ce n'ho bisogno, perché rimango qui. Ma che onore, che sorpresa, Annalisa nel mio ufficio! No, no! Ma che onore, Annalisa nel mio padre! Non sono Annalisa, è solo una vaga somiglianza. Il film è sviluppato come una commedia divertente, una favola, alla struttura vera della favola, perché comincia con un cero una volta e finisce con... e vissero tutti felici e contenti. Quindi più favola di questo non ce ne sono. In realtà è una favola raccontata a una bambina, che sta all'inizio del film e che ci accompagna fino alla fine, ma tutto quello che sta dentro, questa favola, è una commedia divertente, fatta di buoni sentimenti, ogni tanto bisogna ricordarsi che esistono anche quelli, oltre ai pessimi sentimenti che alcune volte vengono raccontati in altri film, e che è fatta di rapporti di verità, cioè io... i personaggi di questo film sono tutti deliziosamente umani. Senti, zia, io vengo a Salerno per un lavoro. Mi chiedevo, non è che potrei dormire qualche notte da te? E tu che dici? Eccomi qua! Io non ho mai avuto un nipote così vecchio! L'ispirazione mi è venuta da Salerno, che durante le feste si veste di luce, con queste luci d'artista, mi hanno preso e colpito moltissimo nella loro bellezza, e ho pensato di girare lì questa favola natalizia, perché aveva già un set già fatto, pronto, e solo da utilizzare. Sì, anche perché devo dire che io devo fare un complimento a Annalisa, perché non ne ho avuto modo fino ad oggi. E' una delle persone, soprattutto una giovane donna, che nelle giornate in cui ci siamo visti per preparare sulla sceneggiatura, prima di cominciare a girare, per non farla arrivare sul set senza sapere neanche di che si trattasse, visto che non aveva mai fatto l'attrice prima di allora, abbiamo lavorato per ore sul copione, e io mi accorgevo che erano passate 6-7 ore e lei non aveva chiesto neanche, posso fermarmi un attimo a bere un bicchiere d'acqua? Niente, una stacanovista che si mette in lavora straordinaria. Ebbè, bisognava farlo. Eh sì, e con una memoria straordinaria, che quello che ci siamo detti in quelle sedute io l'ho ritrovato dalle quali sul set. Spesso anche con gli attori, tipo questi qua, bravi. Tu dici le cose e poi non capiscono niente. E invece a lei, detta una volta, le ho ritrovate fino alla fine. Poi ha imparato pure per il ruolo, insomma, ha dovuto imparare a cantare. No, ho già cantato. Quella era l'unica cosa che... Ah, scusa, 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 vai, allora vai avanti, non stasera. Ah, era per... Scusa, su, ok. Tanto la cura la troviamo per te, non ti preoccupare, vai. Il film inevitabilmente è merito di Maurizio, insomma, del... Questa è l'altra bugia. ...dettere a proprio agio e creare un set con un bel clima, perché quello è importante. Molti non ci pensano, ma il clima che si respira sul set aiuta o meno tutti a dare... no, a dare qualcosina in più. E devo dire che grazie all'entusiasmo di Maurizio e comunque alla bella sceneggiatura, questa favola molto calda, molto pulita, molto accogliente, tutti ci siamo sentiti di dover metterci il cuore. Non voglio sapere la persona che l'ha trovata, voglio sapere il nome del ritrovato. Natale. Sì, io dico il nome Babbo. All in! Babbo Natale, manco i punti. Ma te l'abbiamo spiegato più di cento volte, ma tu niente. A me avevano detto, non ti preoccupare, qua c'è sempre bel tempo. A Salerno. Ebbene, signori, io voglio dirlo, c'è una scena nel film in cui c'è la neve e tutti pensano che è un effetto speciale. No, non è un effetto speciale. Quel giorno ha nevicato veramente ed era esattamente il primo giorno in cui Giampaolo è venuto a girare sul set ed è venuto a girare con la neve. Io avevo cinque bambini, anzi... All'aperto stavamo. Dieci, erano dieci forse i bambini in quella scena. Dieci bambini, facciamo l'albero all'aperto. Sì, facciamo l'albero all'aperto sotto la neve con una tormenta. Una tormenta di neve. E io pensavo, e questo è il bel tempo. E se fa mal tempo dove giravamo? Dobbiamo fare una storia divertente, far ridere la gente, ma mi piace che la gente dopo aver riso non si vergogni di quella risata che alcune volte è un po' insignificante o legata alla volgarità o legata a cose un po' becerotte. E quindi è una risata di cui poi dopo porti un leggero senso di colpa. Invece credo che in questo film ci siano tante risate di cui sei fiero dopo perché sono risate che ti lasciano dentro comunque una poesia, una bella atmosfera. Io non mi ricordo chi so, ma sono meglio Harry Potter. News Cinema, andate a vedere Babbo Natale non viene da nord. Dal 26 novembre al cinema, una favola per tutta la famiglia. Ci siamo anche io. Ci siamo anche io. Anche io. E lui. Ci siamo anche io e io. Siamo tutti e tre io. Ci vediamo al cinema. Ciao. Ciao.